...formazione chiamata a bastoni, i quattro AMA Special Colors che mostrano la livrea del piano testo di città. Il velivolo leader si separa dalla formazione e formando a bassa poca un passaggio a cortello che permetterà di mostrare il dosso della livrea del 30 angelo... se città fino a livella... ... ... ... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti